Allora, dai, siamo al giorno... non lo so, però, giorno abbondante No, aspetto, ho sbagliato, chiuso, scusa, no, devi aspettare un attimo, devo fare degli ordini, mi scusi Allora, devo prendere questo, devo prendere questo, devo prendere... tranne quella gialla, mi sa dovevo prendere tutto in realtà Vabbè, prendiamone quattro perché non so se poi mi si impalla il magazzino qua, inteso com'è Sta zona qui, devo avere un attimino di tempo per fare il recap Rosa servivano, otto ce ne avevamo, quindi rosa va bene così, ce l'abbiamo anche qua al magazzino Questo qua ce lo ributtiamo un pochino, che comunque un paio ci vanno Perfetto, questo qua turchese ce l'avevamo già? No? Però qua, mi sa che l'avevamo rimpinguato, non è vero neanche, neanche Ok, a posto così, guarda, farei anche un'altra cosa Tanto là, signoria, finisco Togliamoci il problema Lasciamo direttamente là E passa la paura, vai Poi il giorno successivo andiamo a prendere un altro brand, eventualmente Non lo prendiamo adesso perché se lo prendiamo adesso poi ci chiedono di... Cioè, ci chiedono quella maglia e quindi rompono i maroni Ma perché non c'è quella? Prezzo ingiusto, signora Per piacere, a che ora è venuta? Di mattina? A mezzogiorno? Oddio, abbiamo aperto un po' tardi però Avevamo altre cose da fare, c'era da fare magazzino, signori C'era da organizzare il magazzino Eccoci Tutto sto casino per una maglietta Dai, su via Prego, venghino, signori, venghino Oh, senti, senti Erpiccionaggio Sembra quasi un... sembra una specie di grattacielo ma tagliato Cioè, un grattacielo fatto male però Poi c'è la mutanda sgommata Perché questa colorazione nera della... Vabbè La mutanda sgommata Fucsia sarebbe stato un po' più fuori tema Va bene Eh, quelle altre magliette Ma erano proprio fighe quelle magliette Non vorrei di niente Ma quelle erano veramente uscite delle Gran magliettone In Factory Outlet Poi riprendiamo anche quello che C'è da... da vendere cose anche lì Cose, magliette in realtà Questa canotta bianca, scusa Ma fatemi capire Il prezzo consigliato è 10,55 L'ho messa a 11 dollari Il prezzo non è onesto Ma andatevene a fare in culo Ma scusate Manca a dire che c'avevo bombato È quella che ho alzato anche meno il prezzo E allora ve lo devo far scontà Scontà inteso come vi devo mettere Ancora un rincaro più prepotente Così, poi vediamo Poi vediamo Poi vediamo dove comprate le magliette Giallo e rosa Va, rimpinguiamo giallo e rosa Ce n'abbiamo un giallo qui Bravissimo Tac Rosa ne abbiamo Ben 8, attenzione Full rosa style È rosa Ole Se non lo rimetti pure al posto Abbiamo vinto tutto 6,6 Va bene così Queste 7,7,6 Adesso che la signora se la sta imboscando Credo Va bene uguale Grazie Yolao Grazie per i 15 Buon suor Buon suor Grazie per la resab Qui ogni tanto c'è qualcuna che passa con un fare un po' ondulatorio Un po' stranamente ondulatorio Eh Ah vabbè In maniera di precisi Non ci bisogno Vada via Può andare La signora se ne era intascate due di queste Che come detto costano anche poco Attenzione Fare ondulatorio La signora Attenzione Convergenza Curva Attenzione Freno a mano Tirato Tiè Resto Pigliato Allora Allora Maglietta gialla Maglietta gialla Ne abbiamo tre Così Mettiamo qua e buttiamo lo scatolone E passa la paura Maglietta gialla poi me la rimetti direttamente qui Così siamo belli carichi Eccolo Che voleva questo Un cliente pensare che canotta Un cliente Se ne può andare a fare Madonna Madonna Con sta canotta bianca Avete rotto il cazzo Se la volete ve la comprate Se no no Eh che cos'è Con quale pressing Niente c'è No Non volevo fare questo Scusa Sto vedendo il prezzo Il prezzo e il resto C'è del marcio In questa canotta Bianca Comunque Richieste Incredibili Eppure Costa solo 50 centesimi In più Del dovuto Credo Ma a parte il profitto Che è abbastanza ampio Ma quello è un altro discorso Il profitto È il profitto C'è uno scatolone Stronzi Poi la maglietta gialla Abbiamo detto che Eh però stanno iniziando A comprare parecchio Tra poco Secondo me Quasi Ci possiamo permettere Una cassiera Ma quasi Quella rossa Quest'oggi Sta andando meno Quella rossa Oggi Non c'è Tutto il pienone Che ci si aspetterebbe Ci aveva dato Grandi soddisfazioni Adesso non ce le hanno Neanche finite Sullo scaffale In una giornata Non le ho neanche Rimpinguate Pensate Pensate Eh Vai va Palo Ok La rossa Dovrei poi Anche ricomprarla Poi 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 Allora Aspetta che forse Questo Riusciamo a mettercelo Qua Preciso Preciso Tre ne mancavano Tre prese Tac Tac Poi La canotta Sta parata Quella rossa Sta messa Turchese E rosa Solo dobbiamo mettere Rosa E Turchese Rosa qua Turchese qua Ce ne stanno sei Grazie 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 Simo Dax Grazie per I 42 42 31 di seguito Ma 42 In totale Grazie Simo Grazie mille Grazie mille Grazie mille 1.700 Vabbè Non possiamo fare acquisti Però Almeno Possiamo andare a vedere Qualora facciamo il prossimo contratto Sono sempre magliette In realtà ne possiamo fare anche due Oddio a prezzi più o meno Sempre con le grucce Pare di sì T-shirt E Pure i jeans Possiamo mettere là Ma nel caso A livello di equipaggiamento Quindi abiti a tre vie Forse sono questi più per i pantaloni Che dite Abiti a spirale Anche questo per i pantaloni Potrebbe andare bene Magari Scaffale a parete Eh Questi costano un po' tanto In realtà Questi costano un po' tanto Questi con le grucce Secondo me va bene Questo per i pantaloni E questo qua per le altre magliette Quindi in realtà potremmo già mettere Andando a sbloccare Quegli altri due Grazie Cadavras Grazie per i tre Grazie per la tripletta Grazie mille Ehm Vabbè questi comunque Uno di questi ci serve Il fatto è che ci entrano Manco troppa roba Però questo qua Sì ce ne entrano dodici Più che altro magari Per fare una cosa diversa Perché all'atto pratico Economicamente non ci conviene Questo sedici Questo dodici Però Dai Giusto per vedere qualcosa di diverso Giorno finito Eh vaffanculo Cazzo Almeno questi Giusto per cambiare un po' Perché poi in realtà Sono più belli questi Che quelli tondi Però Come vedete Turchese Gialla Ricontrolliamo allora Ste cazzi magliette Gialla 18 Sti cazzi Metti a 19 Allora Che se 10 11 va bene 3 va bene Va bene Va bene Ehm Tornando a noi Dicevamo Allora Compriamo questi E Facciamo Un altro di questi Lo mettiamo qua vicino Vediamo sto baracchino tondo Che secondo me È anche brutto a vedersi Bah Poteva andare peggio In realtà Allora in realtà Potremmo anche fare Un'altra cosa Potremmo mettere Tutti questi Vabbè Quelli pure Sono diversi Quindi in realtà Dovremmo spostare Anche quelli Però facciamo una cosa Un attimo Queste magliette Tanto lo spazio Cioè Al momento Un altro camerino Non ci serve Va bene tutto Ma non c'è tutta Veramente tutta sta fila Da dover richiedere Un altro camerino Questo qua Questo Me lo metti Qua E questo In linea teorica Me lo potresti pure Piazzare qua Al centro Facciamo una cosa Così Poi Poi Se andiamo A Prendiamo Prima queste Magliette Quell'altro Aspettiamo Dopo Facciamo prima Un po' Di acquisti Allora Facciamo 8 e 8 Quindi 1 2 3 E 4 Direttamente Magari se paghiamo Forse arrivano Eventualmente Aspettate che prepariamo Prima Gli scaffali Non rompete i maroni Perfetto 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 Vediamo i prezzi Consigliato 24 e 90 Mortacci Sua 25 Dai Consigliato 16 e 90 17 Dai Costicchiano questi Com'è giusto che sia Più vai avanti E più le cose costano E più le cose costano Questo qua Poi ci metteremo Dei pantaloni Quando avremo La possibilità Di comprare Dei pantaloni Adesso Non ce li abbiamo Due Due rosse Canotte Sono finite Ce le abbiamo qua Si Che cazzo Fai Mettila qua L'abbiamo aperto Si Ok Rosa Qua ne abbiamo Un paio Dovremmo prendere Forse Solo quelli rossi Mi sa Giallo 4 Ok Rosse e gialli Dai intanto Sono come scordo Eccoci Pronti Dai Non iniziate a rompere i coglioni Con i prezzi Che prezzi sono giusti Ok Il prezzo è giusto Non fraganiate i maroni Oggi abbiamo fatto Grandi investimenti Signori Sperando che Possano rientrare Questi soldi Cioè Nel breve A rientrare Rientrano per forza Però Se riusciamo a fare Subito Magari ci compriamo Pure l'altro Brand Direttamente Per il giorno successivo Sarebbe una gran cosa E No Infatti Quelli là Punto 90 99 Tanto per Far finta Che Allora Aspetta che il rosso Possiamo rimpinguarlo Qua erano finiti No Ce n'era ancora qualcuno Quindi Arrivo 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 Tech Eccoci Cash Cash La rossa Sta recuperando Ole Grazie ragazzo poco serio Grazie per i 22 Grazie mille Grazie ragazzo poco serio Per i 22 Mezzozzi Un saluto ad entrambi Un saluto ad entrambi A te signora Grazie mille Grazie per il supporto Comunque Allora Allora Guarda la signora Come è arrivata Di derapata Con le chiappe Inderapata Attenzione Piano Signora un attimo Che ne metto la maglie E che cos'è Ne ha presi più di quelli Che ho messo io Non ho capito Eh devo riprendere Pure la giacchina Allora Porco Due Veloce Veloce Prendi la giacchina Prendi la giacchina Dobbiamo fare magazzino Eccola Ah La presa una Pensavo peggio Però 64 So So già soldi E iniziano già essere Bei soldi 49 Tiè Allora 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 Un attimo Che 3 5 Allora Quelle corpiccione Le rimettiamo Ok Me le puoi appoggiare Anche qua Facciamo pagare il signore Ok Quell'altra ci sta Questa La canotta Bianca Attenzione Canotte bianche Arruba Canotte bianche Arruba Canotte bianche Finite Ce l'abbiamo qua Il resto Dobbiamo ricomprare Eh dobbiamo far così Quando finisce Compri subito Canotta bianca Vai Sennò poi Ci dimenticheremo Sempre e comunque Allora Guardate la carta Si Ha fatto Una cosa di magia Il signore A posto Vedete Vado con la 50 precisa Lui Ok Ammazza questo Cos'è Ha fatto Ha fatto Mambassa di giacchino Aspetta che il giacchino Poi Sapim Credo che sia Quasi finito Anche perché poi Non ordiniamo Ah 5 Vedi cazzo Uno ce n'è rimasto qua Allora Ma la giornata è finita Non credo Allora I rosa Abbiamo due qua Che almeno Defenestriamo No in realtà Non è finita la giornata Perché altrimenti Ci stava il pop up Che rompeva i maroni Rosa Me la rimetti qua Quella gialla Qua ce ne stanno Quattro E Per una Per una E va bene Quella rossa L'avevamo ripresa Sì La rimettiamo Oddio Aspetta Fammi vedere se Già che ci stiamo Tra un po' Mi sa che dobbiamo Piegare un altro camerino Però l'altro camerino Lo prendo Quando riesco A prendere la cassiera Perché sennò Che cazzo Non riusciamo A stare dietro Ai clienti Poi iniziano a diventare Un po' troppi Tac Totto Dipende Per la patacca di sugo Sulla canotta C'è il supplemento La versione Brandizzata Incalidiamo via Così Aspetta che pure Quest'altra T-shirt Bianca Che è andata a ruba Qua non ce l'avevamo No? Mi pare che no Ok T-shirt bianca Possiamo accumulare Anche lì sopra Sì T-shirt bianca E Quell'altra GoCore Pinguino La possiamo mettere Quella sopra Vabbè Arrivo I clienti Sono questi Sistemiamo A fine giornata Adesso iniziamo A fare un po' più Di moneta Quindi Quanto ti devo ridare No Non ti devo ridare Il resto Che cazzo Arrivare qua Questa Signora Andate Se non dovete avere Il resto Fuori dai coglioni Allora Dicevamo Dicevamo Tornando a noi Tornando a noi Questa cos'era L'uccello Print Uccello La butti Lì Però Anche se non posso Acquistare Però intanto Me le metti Nel carrello Una e una Che quelli ce ne sono Rimasti Uno solo Di quelli Poi Partendo da Queste Stavamo Cinque e tre Oppure queste Sono finite Praticamente La gialla Piazzaci L'ultima Che abbiamo qua E Questa qua Perfetto La gialla Tutto sommato Potrebbe Andar bene Così Poi La Rosa Sono rimaste Tre Quindi in teoria Tre Sei Ci vuole un po' Di Organizzazione Qui Forza Questo Togliamo E Turchese Stiamo comunque parati Perché un'altra Ce l'abbiamo Piena No Così Rosse Ce l'avevamo Rimesse Sì E ce ne sono Rimaste Tre Mentre La felpa Beige Continua A entrare Non è colpa Mia Però Ho dovuto Chiudere Il pa Beige Oppure La rimetti Al carrello Magari ce ne metti Pure Due Bianche Quindi Mi rimetti Pure Perché queste Sono finite E mi rimetti Pure La bianca Poi La canotta Invece Bianca Ce l'abbiamo Qua Ma ce l'abbiamo Pure qua Nello scaffale No Lo scaffale No Quindi Canotta Bianca Ci mettiamo Questa Ok E ce ne sono Rimaste Tre Quindi Forse Pure Canotta Bianca Va Ripresa Buttaci pure La canotta Bianca Va Ok Questo per il giorno Successivo Un saluto Un saluto A chi va E Poi Poi Potremmo Anche Mettere Quelle nuove Nel senso Il contratto Vabbè Facciamo finire La giornata E se non ce lo fa fare Ok Poi Scelta gialla Turchese Canotta Bianca E io devo Ricontrollare tutto Perché non mi ricordo Che cazzo Dice Qua Tredici Tredici Ventitre Va bene Tredici Va bene Un dollarino In più Diciassette Vabbè Ecco Facciamo Diciotto Scusate Ma Allora Andiamo A Vedere Quindi L'altro Contratto Che Era Questo qua Col Pantalone T-shirt E pantalone Pantalone Ok T-shirt E' un problema Non per qualcosa Ma perché mi devo Ricomprare Comunque Un altro Ma poi Possiamo Anche Contratti Firmati Richeste Non soddisfatte Contratti Annullati 3500 Richeste Non soddisfatte In che senso Ah Possiamo Rescindere Un contratto Pagando Ok Perché tipo Queste qua Magari C'hanno Un margine Minore Quindi E' inutile Che Ok Ok Giustamente Poi conviene Prendere Quelle un po' Più costose Però Va bene Allora Abbiamo preso Anche Questo E Questo Mazza I jeans Sono soldi Quindi Li vendiamo Belli cari Devo mettere Però Un altro Di questi O uno Di questi Per cambiare A tre Vie A tre Vie Quante Magliette Ci metti Tre Maglietta Una parte E tre Maglietta Un'altra Una stronzata No Io ripeto Questi I più convenienti Sono questi Ricordiamo Però Però Tanto dobbiamo mettere Una maglietta Poi vabbè Per il prossimo Prendiamo l'altra Per il momento Compra Grazie Luca Luca Ress Grazie per la Sub Giftata Un Sule Mania Luca Ress 92 Per la Sabona Giftata Sule Mania Per Luca Grazie Luca Grazie mille Grazie di cuore Per la Sub Giftata Mi raccomando Isolano Che ha ricevuto La sab Ringrazio Il buon Luca Che ti ha gentilmente Giftato La sabona Allora Aspetta Che mettiamo La magliettina Qua Ma non ve Non ve Fate Strane idee Prima che mettiamo Il prezzo 22 23 Secco Questo Lo buttiamo Il jeans Lo mettiamo Qui Tac Aspetta Che mettiamo Il prezzo Se 14 69 72 Qua Il margine Ci deve stare Quante ce ne vanno Qua Abbiamo detto Per 10 Ma non mi ricordo Da quant'era In realtà Se era da 12 O da 10 Era da 12 Ok Il pantalone Lo mettiamo qui Poi Queste Felpa beige La rimettiamo Lì Allora Un attimo Dobbiamo fare Un po' Di magazzino Signori Datemi un secondo Lì ci dobbiamo Rimettere la t-shirt Quella lì Se riesco a prenderla Prendiamo là Questo cazzo Grazie MG Grazie per i tre Buon suar Buon suar Grazie mille Vabbè che tanto Ancora non abbiamo aperto Quindi possiamo fare Tra virgolette Con calma Dobbiamo rimettere cose 5 Oddio 5 Qualche E va bene così 8 8 Le altre stanno tutte Rimpinguate Va bene Va bene Va bene E si poi vediamo A livello 7 Era la cassiera Giusto Manca ancora un po' Per poter Prendere la cassiera 300 assunzione E poi 200 dollari Al giorno Insomma Insomma No Le felpe gialle Stanno in un solo scaffale Solo questo Quella è una maglietta Quella è una t-shirt Il prezzo è giustissimo Se te va bene Da compri Giovano Guarda qua Stai infradito A canotta Il cappello da pescatore Ma andò vai Giovane Eh E poi si lamenta Dei prezzi Ma Mi dica lei Ma io non so E lo zero Non mi aveva messo Brava Brava I jeans vanno comprati Eh che so soldi Poi più avanti Naturalmente Andremo anche a Disattivare Alcuni contratti Per Il semplice fatto Che Magari le prime magliette Non ti fanno guadagnare Granché Anche per Non avere Troppa richiesta Perché Poi giustamente Questi comunque Ti chiedono Tutto quello Che tu Hai da contratto Quindi quelle magliette Te le chiederebbero Sì 200 al giorno È un po' tantino Però Ah Lei voleva solo i jeans Ah È giusto Non possiamo accontentare Tutti Noi Solo Persone Di un certo livello Poi magari Dovremmo mettere Anche un secondo Camerino Ah cazzo Sono finite Quelle rosse Dai Cioè ogni tanto Quella rossa Che va A bomba Va bene Accalappia Della E mettiamola Direttamente Qua Canotta Vediamo un po' Arrivo eh Ah no La canotta Ci stava La canotta Ci stava Scusate Pensavo che Avete comprato La canotta Invece Allora Tac Oh i jeans Se li volete Li comprate Se no In altra parte Giovanotti Hai visto la signora In barba A quello che dicono Gli altri Che costano troppo Bam Se ne è presi due Così Giusto per far vedere Che c'ha i soldi Poi un paio Li butta Ma che ne sa Guarda Al massimo Ti posso scendere Di un Un dollarino Settantuno Se vi va bene Se no Vi fate dare in culo La turchese La turchese Dove è la turchese Qualcuno c'è la turchese Qui Ci sono delle turchese Sparse in giro Queste sono otto Eccessive Ce n'è una Mezzo servizio Qua Di Turchese Eccoci Carta Vai che dobbiamo Livellare Oddio Per arrivare A livello 7 Mi sa che ci vuole Cioè della serie Stasera Non ce la facciamo Direi Adesso livelliamo Più lentamente Ce ne vuole Ce ne vuole Allora Quattro maglia Bianca Che abbiamo Lì sopra Perché poi Dobbiamo Ricontrollare Tutto Un pinguino C'ho qui Ma proprio Uno contato Tiè Uccellino Che però È molto Pinguino Quindi Poi poi Eccomi signora Guarda Signora Mamma mia I jeans Come se piovesse 213 213 Dollari Così ci piace Allora Eh dove lo spende Abbiamo fatto lo scontone Lo scontone Pantaloni Spingono tanto A livello di prezzo Allora Vediamo un attimo I t-shirt Lì 6 E 2 Di quelle rosa 2 Di quelle rosa Quindi rimettiamoci Un po' Di rosa 5 Vanno bene Eh Questi erano i jeans Rimettiamo i jeans Signori Perché i jeans Non dobbiamo rimanere Mai senza So soldi Aspetta Ordina subito Altri jeans Beh tipo Peter Griffin Nella Quando andava Dal fast food In condizioni Pietose Ah prendo Un hamburger Patatine Altre cose E Vedete anche Pantaloni Allora 48 C'è C'è fila Adesso C'è Ressa Aspetta Che pure le maglie blu Stanno un attimino A finire Eh Stiamo E Vabbè Sarei tentato A metterle Anche di là Però Cos'altro Sta finendo 5 6 7 4 Quella rossa Arrivo Eh Qualcosina ogni tanto Devo rimpinguare Sennò poi mi ritrovo A dover fare Tutto insieme Che Un cazzo di casino Un po' Un po' Alla volta Mi le hai dati precisi Quindi non c'è bisogno Di resto Ok La giornata è finita Eh vedi Abbiamo fatto Metà del quinto livello Minchia Ce ne vuole Ce ne vuole Ce ne vuole E Vabbè Finiamo questi Poi Per mettere in ordine Abbiamo Bravissimo Con tre paia di pantaloni I pantaloni Sono una gran soddisfazione E non ce lo aspettavamo Olè Eh Vabbè Direi che possiamo Rimpinguare Le varie magliette Allora Partiamo con la Turchese Una sola Di queste turchese Oggi Turchese Meno Gialla Vai Ok Ne avevamo altre Di gialle No Quindi Iniziamo a Mettere Nel carrello Maglia gialla Poi Vabbè Prendiamo pure la rosa La rosa Era già finita Ma perché l'ho poggiata O Proprio finita Finita Allora Prendiamo pure La rosa Poi Andiamo con questo Ne avevamo altri qua Quanti ce ne stanno Cinque Insomma Potrebbero pure Andare bene Dai Perché la canotta Bianca Avevamo tre qua E E qua un altro scatolone Quindi potrebbe andar bene Canotta bianca Stiamo Parati E Quella blu Vabbè al massimo una Ce ne possiamo rimettere Là E quindi poi Sono finite E quindi una blu La prendi I jeans Guarda Me li riprendi Anche se ce li abbiamo Ma Pare che Vanno Vanno Forti Maglietta bianca Ne abbiamo qualcuna Lì sopra Che andiamo a Piazzare Forse Rimasta una E Vabbè La mettiamo là Airping in otto Ce ne stanno sei E La rimettiamo Qua Se ce la fa Ok Ok 8 Posto Ok Adesso c'è l'inventario Può vedere quello che c'è In magazzino In negozio E Però dobbiamo sempre Vedere Dov'è Dov'è Da qui Sì In realtà Mi trovo Un po' Meglio così Almeno per il momento Che non abbiamo neanche Troppa troppa roba Quella cosa deve proprio arrivare La dobbiamo rimettere Queste vanno bene Vabbè Finiamo la giornata Ce ne facciamo un'altra Di giornata Ma Si Vediamo che ci può stare Canotta bianca T-shirt T-shirt Eh che cazzo Eh 60 La madonna Porca puttana Che è venuto a comprare ieri Tre paio dei pantaloni Certo Pure noi Che facciamo Molto meno profitto Eh Sti pantaloni Così Insomma Dobbiamo abbassare Pure questa Qui i profitti Scendono Vediamo perché Non mi ricordo Minimamente Quale Cambiato di prezzo Va bene Un dollaro in più Un dollaro in meno Oh lo comprare in meno Così almeno Dobbiamo per forza Rifare i mega ordini Facciamo 16 Qua Questa 23 Va bene Allora Abbiamo 1.800 Abbiamo 1.800 Vabbè Intanto Aspetta Faccio una cosa Quanto mi spedisci Viste cose Qui Che Dobbiamo rimettere La maglietta gialla Qua E fa mer pieno La rosa Qua E Stiamo Parati Quella blu Va bene Quella bianca Nera rimasta Una lì sopra Non so Non so se prendermi Anche un altro Marchio Ma si Tanto Che stiamo A fa Contratti Quello livello 6 Questo 700 Scusa Prendiamo questo Da 700 Che secondo me So più soldi Top E vestito A pua Ok Top E vestito A puamo Mettiamo questi Questi tondi Sono comodi Perché carichi tutti Con una stessa cosa Però lo potresti fare Proprio con questo In realtà Doppio Così Abbiamo sempre uno Spari Sparis Di questi Allora Metti qua Allora Prendi Top Queste vestito A pua Va bene 6 ce ne stanno Tacci tu Dove vende A caro prezzo E Quest'altro Ti è Pure questo Si tra poco Credo che ci dobbiamo Specializzare Allora Questo consigliato 59 99 60 Tondi Tondi 43 Approvalo Vai Vai che si fattura Eh almeno questi Ci facciamo un po' di soldi Eh Ma vabbè Tanto Non Non è un problema Dai Poi L'importante è Arrivare a un punto Anche dove Eventualmente Poi potrebbe essere Un problema Lo spazio In realtà Livello 5 Espansione Vabbè 900 dollari Espandere ci possiamo espandere In realtà Col negozio Salve Tac Però la cosa positiva Per dire in Factory Outlet Simulator È appunto il fatto Che il magazziniere Ti va a rimpinguare Gli scaffali Quindi Vabbè Là per carità Stai tu che Ci sei tu che Stai facendo il La fabbrica Insomma Devi star dietro Ad altre cose Però Però Sarebbe una cosa Buona e giusta Anche quella Che il magazziniere Non solo Ti mette in ordine Le scatole Ma magari Insomma Ti rimpingua Anche il negozio E chiedere troppo Forse sì Allora Signora Bravissima Sono soldi Vai signori Vai Che ci sono sempre Le farfalle fuori Quindi voi uscite felici Anche se avete speso Un sacco di soldi Voi non vi preoccupate Ci stanno le farfalle Dai Ci stanno C'è la fila Lì al camerino Ma non abbastanza Da prendere Un altro camerino Vedi la signora Entra Con cui Contemporanea Signore Vediamo se Anche il signore Eh si butta Con la signora Che giustamente Allora 76 Vada Carta 100 Oh Adesso vediamo Degli scontrini Che Iniziamo a ragionare Con questi scontrini Sennò Va bene Oh bravo Così Cose costose Per farvi vedere Naturalmente Qui fuori Allora Questi Possiamo già Rimpinguare Che abbiamo finito Tutto Già Si fanno forte Bene Così Che costano Pure Cazzo La signora Sempre se Sempre se Tre Porca Puttana Vanno forte Sì Pure questo Se ne piate Il vestitino Ci sta Le altre 5 Erpicciono Erpicciono Aspetta Erpicciono Li ho riordinato Non credo Di sì Mi ha sto Un picciono In realtà Credo Di doverlo Riordinare Un altro Non vorrei Di niente No Mi sa Che tocca Riordinarlo E la signora Comprato Andateci anche Più piano Con questi Contanti Qualcuno Paga Anche Preciso Fortunatamente Almeno 2 dollari Allora Fate vedere Qua 6 6 7 7 5 Quello Turchese Se ne è piato Pure il signore Quindi Metti il Turchese Metti il Turchese Vai S'abballa Del Turchese Ok Turchese Ce ne avevamo Pre Qui Lanciati Mi sembra Di no Quindi Allora Rifacciamo 1 2 E Erturchese Eccoci Questa Quanta Gente Posto Si tocca Fare un giro Per controllare Ogni tanto Un po' Tutto Buonanotte Ok Allora I jeans Ce ne stanno 6 Queste ce ne stanno 2 di quelle Rosa Adesso Una Perché Il signore Si è Fiondato Quindi Rimpinguiamo Le rosa Le gialle Già Qui ci siamo Tiè Arrivo Arrivo Faccio una moneta 46 Bene Ok Oh i jeans Si sono comprati Più Quando costavano Tanto Che quanto Quando costano Poco Meglio per noi Per carità Però C'è comunque Del margine Che abbiamo Abbiamo un'altra Di questa Sì E quella Bianca Pure Strucicata Rimettiamo Sopra Se ci va Tecnico Tattici Sono i 21 Quindi è quasi finita La giornata È quasi finita La giornata Dai Gli ultimi Clienti Mi raccomando Fatemi livellare Non fate I taccagni Su Giovanotti Comprate Comprate Devo andare A mettere pure Il jeans Aspetta un attimo Ok Ok Va bene Da un altro Livellino Cosa potremmo fare Oh Preciso Preciso Va bene Va bene È un'altra Livellata L'abbiamo data Ora Ora Converrebbe Secondo me Iniziare a togliere Un po' di cose Anche se ci costa Un po' troppo A livello Contrattuale Togliere Alcuni Barendes Allora Intanto Rimpingo Tutto E poi Vediamo Sei Quelle gialle Pure almeno Vediamo di togliere Le cose che abbiamo Nel caso in eccesso O in meno Allora Rosso E turchese Tutte e due Quelli dobbiamo Rimettere Rosso Finito Turchese L'avevamo Ricomprato La non ce n'erano Più E va bene Risistemiamo Il Magazinius Jeans Ok Dovrei prendere Anche un altro Scaffale Qua Linea teorica Si però Ci scocciiamo Un po' Quattro e quattro Questo Mettiamo Le queste Non ce li conta Non ce li conta Come roba Ammassata Va bene Senza maniche Quello Quello 1 Bianco Canotta 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 Ce l'avevamo Canotta Ce ne avevamo Ancora Ok Queste le abbiamo Finite Quindi fai Una qua E via Eppure quella Bianca dovrebbe Essere Terminata Ah no Noi l'avevamo Ripiate O S Ah si l'avevamo Riprese da qua Fuori L'avevamo Ripese dentro Vabbè Pian pianino Riprendiamo Un po' Un po' Tutto Un po' Tutto Anche se Possiamo Possiamo E' sempre Il giorno dopo Sempre il giorno dopo Però queste Vanno comunque Prese Qualora io Andassi a fare Un altro contratto Cosa abbiamo Livello 6 Dobbiamo prendere Quelli Quei livelli Più alti Magari Ne saltiamo Qualcuno Felpa T-shirt Questo livello 6 Costa 1.500 Quindi secondo me E' roba che costa No E' roba che costa James 1.500 1.500 1.500 Questi sarebbero carucci da usare Però scarpe ancora non ne abbiamo Scaffare a parete a 4 linee 5,50 16 Stiamo là Allora finiamo la giornata Però vediamo un attimino Scusate faccio solo l'ordine Signori E poi Eh che palle No non abbiamo i soldi per fare l'ordine Perché giustamente nel mentre Si è fatto 60 va bene 17 25 Sì perché poi io non riesco a Non so Va bene sti cazzi Va bene pure questo Questo lo mettiamo 16 21 va Perché poi dovresti tenere D'occhio Precisamente quello che tesce lì 69 Bravissimo 70 71 dai 71 E mi dovete dare E mi dovete dare Vabbè un attimo Per No 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 Anzi è chiuso È chiuso Salva salva Correso Correso Dice mezza Va bene così Signori Va bene così Va bene così Perché se no ci inforniamo Perché se no ci inforniamo Non la finiamo più Lo so come va a finire Questa Queste storie Vanno sempre a finire così Quindi direi che può Andare bene così Cioè dice al computer Cambiamenti Dov'è che lo possiamo vedere Il computer I prezzi Imposta il prezzo Sì è vero Cioè io effettivamente Cosa l'ho spippolato poco Il Il computer Valore compra Basta E cose per il momento Non conviene Converrebbe prima Espandere il tutto Ci vuole 900 dollari Neanche troppo Però Però Ci servono un po' di soldi Per poter Acquistare un altro scaffalino Da mettere da qualche parte Anche se non c'è spazio E poi ci guardiamo Intanto nel carrellino C'è tutto Comunque Comunque Bene così